Chi vive in quella zona di Salerno racconta che una storia vecchia è nota a tutti, eppure non si è riusciti a trovare una soluzione per evitare sversamenti abusivi di rifiuti nel cuore del centro storico, una problematica che affligge da tempo Largo San Petrillo, zona conosciuta da tutti i salernitani come Largo San Giovaniello e che fino a pochi mesi fa ospitava il mercato rionale. Da giorni si susseguono gli sversamenti abusivi di rifiuti e l'aria, anche per via delle temperature elevate, è diventata irrespirabile, ma ad esasperare e indignare i residenti e soprattutto la rapidità con cui si riformano le microdiscariche, gli operatori non hanno nemmeno il tempo di bonificare la zona, che a distanza di poche ore, gli incivili tornano a depositare rifiuti di ogni tipo. Negli ultimi periodi la situazione sta peggiorando, ogni due o tre giorni si accumulano metri cubi di rifiuti. In tutto ciò il centro storico è oggettivamente molto sporco, sabato sera c'erano anche dei topi. In un momento del genere in cui si bada tanto al discorso della tutela sanitaria noi ci troviamo a vivere in una situazione in cui c'è un cattivo odore, non si riesce a respirare, ieri dovevamo tenere per forza le finestre chiuse. Invito il sindaco di Salerno a stare un po' meno negli uffici del comune e un po' più in mezzo alla strada, un po' più nel quartiere del centro storico soprattutto, per rendersi conto che questa qui che dovrebbe essere una vetrina per la città perché siamo a 100 metri dal Duomo, invece è diventata una vera e propria discarica a cielo aperto.